Situazioni incredibili, degne di un film, ma purtroppo a Borgovecchio erano la quotidianità, la vita reale. La regia di queste assurde vicende era dello zio Angelo, gli attori erano alcuni residenti del quartiere palermitano. Dalle vicende coniugali al furto di biciclette, fino ad arrivare ai problemi tra i gruppi del tifo organizzato, e persino alla cresta sulla colletta per la famiglia di un morto. Tutto ciò, come documentato nelle migliaia di ore di intercettazioni, veniva trattato e risolto dallo zio Angelo, psicologo, amministratore di condominio, giudice in occasione di divergenze della vita quotidiana. Il boss di Borgovecchio interveniva su tutto. Marito e moglie non riuscivano a risolvere i problemi di coppia all'interno del proprio tetto coniugale, ci pensava zio Angelo, disponendo persino il mantenimento e il pagamento dei debiti e la coppia. Del resto, a Borgovecchio non si muove foglia che zio Angelo non abbia benedetto, dicevano tra di loro i fratelli Iari e Gabriele, a proposito del furto di alcune biciclette elettriche al porto commissionata a un giovane. Insomma, la famiglia mafiosa non curava soltanto gli affari criminali e la gestione del territorio, ma faceva molto di più. Una delle vicende assurde emerse all'indagine che ieri ha portato al blitz dei carabinieri, racconta di come il clan abbia fatto la cresta sui soldi raccolti per aiutare la famiglia di un anziano investito da un autobus e morto. Dalle micro spie messe nell'auto dei due uomini d'onore incaricati di riscuotere il pizzo, Giovanni Zimmardi e Vincenzo Vullo, viene fuori l'intenzione del clan di organizzare una colletta nel rione tra i commercianti per riscuotere il denaro da devolvere ai familiari della vittima. I due avevano pianificato però di consegnare ai parenti del morto soltanto 2.000 euro, dei 6.000 che si apprestavano a incassare. In questo caso però gli investigatori non hanno accertato se il resto della Sommar sarebbe stata messa a disposizione comunque della famiglia mafiosa o sarebbe stata spartita tra i due uomini d'onore.